Buongiorno mister, torno un attimo alla partita con Sassuolo perché diciamo che un po' per necessità perché giustamente a fine partita ti abbiamo sentito anche un po' arrabbiato per la differenza diciamo di trattamento di questa settimana tra noi e la Cremonese, loro hanno giocato due giorni prima quindi tu sei stato un po' obbligato a tenere qualche giocatore a riposo ma comunque hai rischiato una squadra molto giovane che ha fatto un'ottima figura quindi puoi essere soddisfatto da quelle che possono essere definite seconde linee ma penso che tu consideri tutti importanti per la tua squadra. Seconde linee non le considero, considero tutti i titolari come è sempre detto chi gioca un secondo, chi gioca 90 minuti quindi sono contento della prestazione, delle risposte che ho avuto ma non avevo dubbi, non avevo dubbi e abbiamo fatto un'ottima partita, abbiamo portato il Sassuolo meritatamente ai calci di rigore, hanno vinto loro ai calci di rigore, non abbiamo perso e quindi anche questo non abbiamo perso nei 120 minuti regolamentari, potevamo anche vincerla, abbiamo fatto un'ottima partita, un'ottima prestazione contro una squadra di Serie A e alla fine pur di vincere loro hanno messo in campo i loro i loro prezzi più importanti, Berardi, Pinamonti, Bairami, Laurente, ma la squadra ha reagito, ha giocato, aveva un'idea, ha un sentiero, una strada ben precisa, abbiamo perso i rigori ma a merito a quello che ha fatto lo spezia a Reggio Emilia contro il Sassuolo e per quanto riguarda l'altra cosa non ci rientra niente la Cremonese, non è il fatto della Cremonese, dall'altra parte poteva esserci qualsiasi altra squadra, ci poteva essere qualsiasi squadra del Girone, il Palermo, il Pisa, ci poteva essere anche il mio Fuscecchio, ma l'equità del trattamento non è lo stesso, chiaramente, non ci riguarda loro, riguarda che non è un trattamento eco, semplice, basta vedere che Sassuolo, Torino e Frosinone giocano lunedì, è chiarissimo, chiuso, basta avere un attimino più attenzione, non è assolutamente un alibi, non mi interessa niente, il mio focus non è spostato di una virgola da quello che è la partita di domani, bastava solo avere un attraamento diverso, farlo un giorno prima, tutto qui, chiuso l'argomento e non rappresenterà mai per me un alibi. Mister, è da diverso tempo che si capisce che la squadra ha comunque assimilato le tue idee di gioco, il tuo sistema di gioco, crea tanto, io mi ricordo che anche il primo tempo di Catanzaro avevamo quasi dominato, però manca sempre il problema della fase realizzativa, hai mica pensato a Couda nel tridente, visto che è l'unico che tira in porta e insomma anche contro il Sassuolo ha rischiato di far gol, è stato bravissimo Cragno, ma è uno che vede la porta e tira quando ha la possibilità. Ci penso tutti i giorni, come penso a Couda, penso a tutti gli altri 28 calciatori della Rosa, a tutti i ragazzi, a tutti i calciatori, ci penso, ti posso dire Massimo, con tutta sincerità, Couda è da venerdì alla febbre, da giovedì sera e quindi se domani sarà dentro è perché ha recuperato, perché lo voglio far giocare, due domeniche fa a Palermo non stava benissimo, ve l'avevo detto, è entrato, è un giocatore in grande ascesa, merito dei direttori che l'hanno portato qua, che ci hanno visto, è un ragazzo sul quale stiamo lavorando, ma come lui altri e spero che domani possa essere a disposizione per giocare. Buongiorno mister, le chiedo insomma la partita contro la Cremonese, un avversario sicuramente tosto, è un avversario che come lo spezia si porta dietro qualche strascico insomma della retrocessione trascorsa, ecco che partita si aspetta? Una partita contro una squadra che ha le sue caratteristiche, una squadra forte, che conosciamo e noi vogliamo mettere in campo quelle che sono invece le nostre caratteristiche per fare una grande partita, grande rispetto per qualsiasi avversario con le loro personali, con la loro forza, ma noi vogliamo fare la nostra partita, come sempre. E' una domanda che spesso viene fatta, ma io mi interessa quello che vogliamo fare noi domani all'Ozzini. Miss tre partite in nove giorni che accentuano ancora di più l'amarezza del fatto di due giorni meno di riposo, comunque sono tre partite fondamentali, Cremona per tanti motivi, poi c'è l'Eco in recupero e poi la Ternana, come gestiamo questa settimana? E' proprio anche per questo, perché a volte basta un attimino un po' più di attenzione e capire che giovedì e domenica, mercoledì e domenica è tanto, però siamo pronti, la squadra è sul pezzo, vedo tutti i giorni un gruppo che si allena con voglia, ve l'ho detto prima di Palermo, vi ho parlato di responsabilità, di fiducia, di consapevolezza, lo percepisco, lo vedo tutti i giorni e questo mi dà la fiducia, la squadra mi trasmette questo e non voglio dire altro, solo il campo, è stato scritto vogliamo i fatti, la squadra non avrà vinto, ma ha fatto grandi prestazioni, è mancata solo la vittoria, a Palermo è mancata la vittoria mercoledì, ma c'è sempre stata e la squadra è sul pezzo. Dopo Cosenza hai detto, bisogna che cerco qualche soluzione in più offensiva per riuscire a capire, cioè sicuramente a far più gol ma anche a far cambiare qualcosa questa squadra, un po' di occupazione dell'area col Cosenza che non è andata magari benissimo, intendo dire un po' anche dei centrocampisti, di chi viene da dietro, qualche forse giocatore che ha tentato il colpo singolo invece di giocare di squadra, insomma tutto questo l'hai analizzato con la squadra sicuramente, se hai studiato qualcosa, anche contro una squadra che tu conosci bene e quindi sai anche come andare ad affrontare probabilmente. ci stiamo lavorando, è un difetto che abbiamo, è un dato di fatto, reale, inconfutabile, ma ci stiamo lavorando per migliorarlo, come ho detto dopo Cosenza tocca a me migliorarlo e vogliamo assolutamente farlo, perché attraverso quel miglioramento lì passa l'ulteriore miglioramento di questa squadra, è un dato di fatto, lo sappiamo, ma sono certo che miglioreremo anche da quel punto di vista lì. Sì mister, una domanda invece, visto che ci sono stati tanti giovani che si sono messi, come ha detto anche lei prima, in luce nella partita con il Sassuolo, un giocatore che a me è particolarmente impressionato è Tio Zipot, che secondo me ha quel qualcosa che assomiglia a un paragone magari un po' azzardato, a un certo Gudmundson del Genoa, ecco io le chiedo cosa manca a questo giocatore per fare quello step in più, insomma per entrare a tutti gli effetti nelle rotazioni di mister Alvini? È un giocatore in piena considerazione, è un giocatore che a me piace tantissimo, un ragazzo solare che ha sempre un sorriso, è piacevole allenarlo, a me piace, gli sto dando anche molte più possibilità, le avrà perché merita ed è un altro giocatore sul quale credo tantissimo, ma credo in tutti questi calciatori qui, forse all'inizio l'euforia, l'entusiasmo di venire a allenare qua, mi è pole aver fatto dire parole come forse un po' affrettate, ma oggi questa squadra è futuribile, ha un percorso di crescita davanti a sé, perché li vedo tutti i giorni allenarsi e sono certo che questa squadra avrà un futuro e io sono molto contento di poterli allenare, Cipot come altri ragazzi rappresenta sicuramente quello che lei mi ha detto. Sì mister, ieri la D ha dichiarato in conferenza stampa l'amministratore delegato dello Spezia che rispetto a quelle che erano le premesse di inizio stagione, adesso bisogna salvare la pelle, portare a casa la pelle, mantenere la categoria. E' logico che in questo momento, visto anche alcune difficoltà che abbiamo avuto, è questo il primo obiettivo, ma secondo me si legge anche nelle parole di tantissime altre addette a lavori in tutte le società, in questo momento sicuramente dobbiamo guardare questo come obiettivo, però credetemi, ci sono le basi per poter ricostruire qualche cosa attraverso il lavoro, attraverso l'empatia, attraverso la quotidianità che tutti i giorni respiriamo a follo. In questo momento c'è questo, prendiamolo di buono questo, cerchiamo di costruire, di consolare, di darci, perché l'Ospezia con tutti questi ragazzi qui può avere un futuro importante. E lo dico perché lo sento, veramente. Sì, mister, una domanda dal collega Nicolo Pasta, che non è potuto essere presente stamattina, le chiede qual è la differenza sostanziale che riscontra nella difesa quando gioca Bertolo quando al suo posto gioca a Gellasvili. Gellasvili domani non è utilizzabile, un giocatore che purtroppo è uscito con un problema a giovedì. Sono due giocatori diversi, Nicolo Bertolo è un ragazzo più giovane che ha bisogno ancora di un percorso diverso, ma è un giocatore in grande crescita, è uno dei ragazzi nostri ed è sicuramente un fiore che l'Ospezia può avere come altri, come abbiamo parlato di Cipot, Codà, Candellari, Pietra, Salvatore Esposio, tantissimi calciatori giovani, di prospettiva, e ce ne sono anche altri. Ma mentre Mull è un giocatore più esperto, è un giocatore che vanta... Gellasvili è un giocatore diverso, non Mull, scusami, è un giocatore che ha una lettura diversa rispetto a Bertola, più di impatto sull'uomo, più di pressione individuale, mentre Bertola è un giocatore che riesce anche a guidare palla, ad uscire con la palla, ad avere una gestione del possesso migliore. Stiamo lavorando per farlo anche con Ghella, sono due ragazzi di grande percorso, di crescita, sono due giovani che rappresentano sicuramente il futuro. La differenza sta lì, uno è più marcatore, più uno nell'uomo contro uno, l'altro è un giocatore forte anche nell'uno contro uno, ma che ha una gestione della palla migliore. Sta a me migliorarli tutti e due. Veniamo appunto, hai parlato adesso di Ghella Svili che ha preso questa botta col Sassuola, che ha detto che non si era a disposizione, c'è il problema della febbre di Cuda, qual è la situazione fisica degli altri? Abbiamo visto che Mull e Bandinelli sono rientrati in gruppo, insomma, con chi porterai via? Ghella Svili non è della partita come Ekdal, vediamo un attimino lì come starà Cuda, come sta Zurkowski, che ha avuto una settimana di lavoro completamente diversa, perché è uscito dalla partita con Cosenza con qualche problema, e quindi lì dobbiamo fare una valutazione anche noi per come poter giocare. Vediamo un attimino, spero che Cuda possa esserci. Bandinelli non sarà dalla partita all'inizio, ma sarà a disposizione, perché ancora questa situazione non è al 100% recuperata. Penso che però siamo sulla strada giusta. Per il resto faremo delle vultazioni. Mull si è allenato ieri per la prima volta in squadra, oggi vediamo un attimino. Altre cose sulla squadra non ci sono. Scusa mister, una parola su Risto, che mi sembra che sia entrato con la testa e col cuore nel modo migliore. Felicissimo per lui, ha ritrovato la gioia di giocare, sappiamo del suo di lui, del suo percorso, e quindi quando venerdì è entrato tutti siamo stati contenti. Ma credetemi, si respira un'aria bella là dentro. E questo non ve lo dico per farvi ci credere, non ho bisogno di vendere il fumo. Questo è chiaro. E quindi anche l'entrata di Risto ci ha fatto piacere. Amministro, torno un attimo al tuo passato recente, perché è stata l'anno scorso, la tua prima esperienza in Serie A con la Cremonese. Insomma, cosa ti ha lasciato questa esperienza e cosa vuoi dire di questa esperienza? Ma la tappa alla Cremonese Questa è una tappa del mio percorso, una tappa del mio percorso di crescita di allenatore. Chi lavora all'Assa ha conosciuto l'Alvini allenatore e Massimiliano l'uomo e quindi niente da dire. Quello che invece mi interessa, il mio focus è solamente sullo Spezia, su quello che in questo momento per me è fantastico allenare questo gruppo di calciatori che ogni giorno mi trasmettano una voglia pazzesca. Questo è importante e ogni giorno mi fanno rendere un allenatore felice allenare questi calciatori, essere allenatore dello Spezia di questa città e di questi tifosi. a sì o a a a Grazie a tutti.